Sindaco, una città ferita in piena emergenza, come sta cercando di fronteggiare questo evento straordinario che si è abbattuto sulla città di Soverato? Sembra che per Soverato non debba esserci pace in questo periodo. Dopo le emergenze dei giorni scorsi, adesso c'è stata questa gravissima alluvione che ha messo in ginocchio Soverato. Molte strade sono state divelte, fossi che hanno esondato, muri che sono crollati, ci sono case pericolanti. Il morto non ci è scappato per poco, un muro è crollato da una casa posta più in alto ed è andata a finire nel cortile di una casa sottostante schiacciando completamente un'auto. Abbiamo fatto delle ordinanze per chiudere le scuole, chiudere gli uffici dell'ASD che erano totalmente inagibili, come pure dell'Agenzia delle Entrate. Abbiamo anche fatto delle ordinanze di sgombero per quanto riguarda queste abitazioni che sono in pericolo, in attesa di fare gli opportuni accertamenti nei giorni che seguono. Stiamo intervenendo anche con le forze che abbiamo a disposizione per cercare di mettere in sicurezza i fossi che devono garantire il drenaggio delle acque meteoriche, ma credo che l'eccezionalità dell'evento di ieri sera, o meglio rispetto all'eccezionalità dell'evento di ieri sera, credo che ben poco poteva essere fatto. Noi conosciamo bene la situazione idrologica di Soverato, è necessario predisporre degli interventi, ma sono degli interventi estremamente costosi, che solo in un regime di programmazione e di grande attenzione anche delle autorità preposte, lo Stato o la Regione, potranno consentirci di risolvere il modo compiuto e definitivo per mettere in sicurezza la città, che oggi purtroppo per queste situazioni ataviche in sicurezza non è. Per lei è stata una nottata da incubo, perché già da ieri sera sappiamo che si era messo in movimento per cercare di trovare qualche soluzione, in quanto allertato anche dalla protezione civile. Noi stanotte ci siamo interfacciati con i carabinieri. Nel dramma, alla stazione dei carabinieri purtroppo era al piano interrato allagata, prive di corrente. Ciò nonostante tutti gli uomini dell'arma di Soverato, come al solito, sono resi disponibili, hanno fatto un grande lavoro, salvando anche un disabile che, abitando a piano terreno, aveva visto la sua casa inondata per circa un metro, rischiava di affogare. Con grande coraggio, devo essere estremamente obiettivo, si sono buttati dentro questa casa, lo hanno preso, lo hanno portato via, lo hanno salvato. Dopodiché si è cercato di fare una ricognizione di tutta la situazione complessiva, mettendo in atto tutte le azioni che potessero cercare di alleviare questa criticità. Ma devo dire che c'era un grande fervore di volontariato, per cui molta gente stava aiutando chi aveva avuto problemi. Anche stamattina il Presidente dell'Aschillatium mi ha chiamato per mettere a disposizione i suoi uomini e quindi per cercare anche di dare una mano di aiuto a tutti coloro e quali... I volontari, i Vigili del Fuoco, tutti quanti dell'Aschillatium, le Forze dell'Ordine, tutti allertati, tutti in piena attività per cercare di soccorrere chi aveva bisogno in questo particolare momento. Ma c'è una situazione particolare che viene segnalata, è quella di via San Giovanni Bosco. Ecco, c'è qualcosa da dire al riguardo? Guardi, quello che meraviglia è che in situazioni gravi come queste ancora ci sia qualcuno che pensa di poter giocare su certe cose. Lì c'è un cantiere, tutti i seminterrati, gli interrati, i disoverati sono stati allagati. Il nostro teatro, il nostro acquario sono stati completamente allagati. Come si fa a dire che la presenza di quel cantiere ha causato l'allagamento di un interrato? Siamo veramente a livelli di bassezza morale e culturale che devono fare pensare sugli sforzi che devono essere fatti in questa città per cambiare la situazione. Non c'è nessuna relazione tra le due cose. Ad ogni buon conto io ho mandato subito, non appena mi è stato segnalato, il tecnico comunale preposto a verificare la situazione e a prendere le decisioni del caso. Ma posso tranquillamente affermare che nessuna relazione vi è tra l'allagamento di quel seminterrato, come di tutti gli altri interrati che si trovano in via San Giovanni Bosco, con quel cantiere. Lei si vede dal viso che è particolarmente provato. Cosa pensa di fare in questi momenti ancora per cercare di risollevare questa città? Guardi, noi stiamo andando a verificare tutte le situazioni che ci sono in atto, dobbiamo censirle, poi programmeremo i primi interventi per le soluzioni immediate. Mi sono già interfacciato con Sua Eccellenza il Prefetto, col Presidente dell'Aggiunità regionale, col Presidente del Consiglio regionale. So che domani ci sarà il Capo Nazionale della Protezione Civile, il Dottor Gabrielli, per cui rispetto a questa situazione noi dovremmo intervenire. Certo, abbiamo subito danni notevoli, l'acquario è completamente andato, tutti i macchinari sono completamente sommersi dalle acque, per cui solo lì ci sarà un danno che ammonta da almeno 2 milioni di euro. Il teatro è allagato, le strade sono franate, muri che sono crollati anche su strade pubbliche, per cui c'è una situazione. Fossi e Tombini che hanno mostrato la corda in questa situazione, che vanno rivisti. Cioè bisogna ripartire da questa situazione per fare oggi una seria riflessione su queste cose, coinvolgendo tutte le parti in causa, la Regione, lo Stato, per cercare di mettere finalmente mano a queste strane condizioni per risolverle e adeguarle agli eventi. Perché oggi sono eventi sempre più gravi, sempre più pesanti. Anche ieri sera, tornando dalla mezza, abbiamo avuto il nostro bel da fare per tornare a casa. Molte macchine erano ferme e non riuscivano più a partire perché la strada di Germaneto, per esempio, era un fiume in piena. Malgrado l'allertamento, lei non si aspettava un evento così calamitoso? Sicuramente no. Però ieri sera ci siamo accorti subito per l'intensità della pioggia, soprattutto la durata. Ci sono state almeno tre ore di pioggia terminata verso mezzanotte e mezza. Sicuramente non ci saremmo aspettati, ma abbiamo capito immediatamente della gravità della situazione. Sicuramente non ci saremmo aspettato.